Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video super motivazionale per le pulizie estreme della cucina. Allora prima di dirvi il tutto voglio augurarvi un sereno felice Natale a tutti poiché questo video sarà online a Natale quindi vi auguro un sereno Natale a tutti quanti e vi abbraccio tutti e inizio nel pulire appunto come già state vedendo i vetri della porta appunto della cucina con semplicemente il mio spruzzino fatto di acqua e alcol e passo con lo scottex con la quale mi ci trovo veramente benissimo escono veramente i vetri super super lucidi e quindi procedo così in questo modo e poi mi occupo del resto della cucina ma che comunque vedrete le clip man mano quindi io vi lascio poi con la musica così vi rilassate non sentite la mia voce e niente e quindi fatemi sapere come sempre giù nei commentini se questo video vi è piaciuto se vi è dato la giusta motivazione per affrontare le vostre appunto pulizie estreme della vostra cucina e vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale 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 canale iscriviti al canale iscriviti al canale canale iscriviti al canale iscriviti al canale 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 iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. a tutti. e 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 a tutti.